Salve, sono Vera Pierantone Giuà e sono la costumista del Fernan Cortez. Con Cecilia abbiamo cercato di lavorare raccontando la storia nel tempo della storia, ma prendendoci anche quello scarto dalla realtà, quindi uno scarto di fantasia che è quello tipico della fiaba e quindi individuando due mondi, quello degli spagnoli e quello dei messicani, lavorando sulle materie, quindi sul metallo per gli spagnoli e sulle materie naturali come la lina, come lino, la cannafa e la juta per i messicani. C'è stato un grande lavoro sulle acconciature, sugli accessori di cui devo ringraziare Saverio Galano che ha condotto il laboratorio e niente, venite a vederlo, vi aspettiamo. Ciao a tutti!